E' il primo anno di liceo e l'impressione che diamo adesso rimarrà per i prossimi cinque anni. Davide Maraldi. Fate bene a godervi lo spettacolo finché c'è. Che significa? A giugno l'Osi chiuderà. Hai spaccato con il post Flamingo Mania. Ti nomino social media manager dell'account Volta. E tutte queste notifiche? Dimostrerò al mondo intero che quel ruolo spettava a me. Ho trovato l'idea. Asha Flamingo Party. Una festa per i finicotteri. Una raccolta fondi per salvare l'Osi. Geniale. Non c'è ballo senza musica. Martina ha ragione, abbiamo bisogno di un DJ. Metterò la musica al vostro ballo. Tadà! Che succede? Non puoi immaginare una roba fantastica. Stavi per mettere un live? No! No, no, no. Questa festa è tutta per noi. Ignoriamoli. Sono solo degli iteri e non riusciranno a rovinarci il ballo. Questa festa è tutta per noi. Flamingo Party. Questa notte è tutta per noi. Radio Italia. Radio Ufficiale.